L'Istituto Casimiri, dal prossimo anno scolastico, attiverà il nuovo indirizzo tecnico in grafico e comunicazione. Ti piace lavorare al computer? Ti piace la grafica, la fotografia, i video? Vuoi potenziare la tua creatività e contribuire al nuovo modo di comunicare? L'indirizzo di tecnico in grafico e comunicazione ti consente di acquisire una specifica preparazione professionale nel settore della comunicazione. Affronterai materie come progettazione multimediale, tecnologie dei processi di produzione e tecnologie informatiche. Imparerai a curare la visual identity di un'azienda, a realizzare lo shooting fotografico e lo spot per una campagna pubblicitaria. Utilizzerai software professionali per il trattamento delle immagini e degli stampati. Realizzerai prodotti grafici e multimediali. Il corso è strutturato in 5 anni con 32 ore settimanali e 400 ore di alternanza scuola-lavoro nel triennio finale. Potrai accedere a qualsiasi facoltà universitaria, a corsi di specializzazione post-diploma, inserirti nel mondo del lavoro nei settori della grafica e della comunicazione. Attraverso un ampio uso dei laboratori, visite alle fiere, interventi degli esperti, potrai coltivare la tua passione, la tua curiosità per la comunicazione e per le nuove tecnologie. L'istituto ti offre la certificazione europea delle lingue straniere, la patente informatica europea, gemellaggi all'estero, in Canada, in Australia e in molti altri paesi del mondo. E ricorda, l'istituto facilita l'alternanza scuola-lavoro, l'uso delle nuove tecnologie e l'internazionalizzazione. Centra il tuo futuro. Scegli il Casimiri.